Circa un mese fa un avvocato sessantenne ragusano si era presentato ai carabinieri per denunciare il furto perpetrato all'interno di un albergo di sua proprietà. Quattro poltrone, un quadro di Salvatore Fiume, il bottino dei ladri, per un valore complessivo stimato intorno ai 10.000 euro. I carabinieri della stazione di Ragusa subito si erano messi all'opera per risalire all'autore del reato, raccogliendo diverse testimonianze, tutte convergenti verso gli ex affittuari della struttura, che da qualche mese non gestivano più. I tre padre, madre cinquantenni e figlio venticinquenne, ragusani, avevano infatti avuto disponibilità delle chiavi dell'immobile e potevano essere in un secondo tempo ritornate a prendere quanto mancava. Ottenuto un decreto di perquisizione, questa mattina i militari si sono recati ai domicili degli indagati, dove spontaneamente uno di essi ha consegnato loro la refurtiva, che è stata direttamente restituita al proprietario. I tre sono stati denunciati per furto.